Con partecipazione ai ticket sociosanitari trovato l'accordo politico martedì via libera in commissione all'esenzione totale per tutto il 2015. Aumento dei budget alle cliniche private e critiche da Abruzzo Civico e Movimento 5 Stelle al provvedimento commissariale. Nuova sede per la redazione aquilana del quotidiano Il Centro dopo il terremoto per sei anni ospitata in un prefabbricato accoppito. Presentata ufficialmente a Pescara la 68esima edizione del trofeo ciclistico Matteotti, presenti 17 squadre e 130 corridori. E' stata rinviata martedì prossimo 14 luglio la discussione in commissione sanità sul regolamento per la compartecipazione ai ticket sociosanitari. L'accordo tra le varie forze politiche è stato però raggiunto al termine di un confronto andato avanti 12 sedute. E' stato concordato di confermare anche per quest'anno il rimborso totale ai comuni delle quote di compartecipazione per il quale la regione ha stanziato in bilancio circa 12 milioni di euro. Questa soluzione è stata individuata soprattutto perché nei prossimi mesi saranno introdotte a livello nazionale i nuovi criteri per il calcolo del reddito ISEE, sulla base del quale saranno stabiliti gli scaglioni di compartecipazione. Intanto Abruzzo Civico e Movimento 5 Stelle criticano la decisione del commissario ad acta per la sanità, il presidente della regione Luciano D'Alfonso, di aumentare di 7 milioni budget a favore delle cliniche private abruzzesi. Per Abruzzo Civico, gruppo che fa parte della coalizione di D'Alfonso, le risorse potevano essere utilizzate per potenziare l'operatività dei presidi sanitari pubblici anche nelle ore serali e notturne o nei fine settimana, così da ridurre le liste d'attesa. Per il Movimento 5 Stelle invece la scelta di D'Alfonso non rappresenta un obbligo ma solo una facoltà a vantaggio della sanità, a cui si rivolgono solo le fasce più ricche della popolazione. Torneranno, ormai quasi certamente, all'Unione Europea i circa 4 milioni di euro destinati all'adeguamento infrastrutturale di quattro istituti scolastici abruzzesi, il Savoia e il Gonzaga di Chieti, il Cupari di Alanno e il Misticoni di Pescara. La denuncia arriva dal consigliere regionale del gruppo misto, Leandro Bracco, secondo cui le province di Chieti e Pescara, che avrebbero, come previsto dal bando regionale per l'assegnazione dei fondi, dovuto iscrivere nei propri bilanci le somme necessarie a coprire il 26% del finanziamento, non hanno provveduto a farlo. E questo porterà alla revoca dei 4 milioni, perché il bando della regione prevede una sola possibilità di proroga dei termini per il finanziamento dei progetti, proroga già scaduta. Forza Italia critica le scelte della giunta regionale sulla caccia, in particolare per quanto riguarda il territorio della provincia dell'Aquila, dove si va verso l'istituzione della cosiddetta area contigua ai confini del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. E a quel punto, all'interno delle aree contigue, potranno cacciare solo i residenti dei comuni facenti parte dell'area stessa. Per il gruppo di opposizione, quindi tutti i cacciatori abruzzesi, di cui il 90% è residente in comuni posti al di fuori delle costituende aree, non potranno più cacciare nella loro regione. Significativa partecipazione all'inaugurazione della nuova sede della redazione del Quotidiano Il Centro, in Viale Corrado IV all'Aquila. Dopo sei anni dal terremoto, i giornalisti del centro lasciano la casetta di legno accoppito, che gli ha ospitati nei tempi difficili dell'emergenza e in quelli non semplici della ricostruzione, per una redazione vera e propria, che torna a interagire con quella parte di città che comunque sta cercando di ripartire. Punto di riferimento per la comunità aquilana, il centro darà certamente nuovo impulso alla propria testata e un'informazione ancora più puntuale ai suoi lettori. A due settimane dalla giostra cavalieresca di Sulmona, nei borghi e sestieri della città antica, sono già iniziate le celebrazioni del ricco programma di quest'anno. Il primo appuntamento è stato quello con la cena rinascimentale, che si è tenuta nella splendida cornice del quattrocentesco palazzo Tabassi, appartenente al sestiere di Porta Bonomini. Per la speciale occasione, il cortiere del palazzo è stato allestito con tavoli, panche, candelabri e suppellettoli per ricostruire fedelmente le atmosfere di una corte dell'epoca, animata da baroni, giocoglieri, dame e cavalieri, tutti rigorosamente vestiti in abiti di ispirazione rinascimentale. E sarà presentata nella sala Tosti dell'Aurum a Pescara la sessantotesima edizione del Trofeo Matteotti, la corsa internazionale di ciclismo riservata a professionisti e organizzata dall'Unione Ciclistica Fernando Perna. La classica abruzzese, in programma domenica 19 luglio, si anima sul tradizionale circuito cittadino che braccia i comuni di Pescara e Montesilvano. Gli organizzatori hanno fornito anche i numeri dell'edizione 2015 del Matteotti, 17 squadre al via per un totale di 130 corridori. Ai nastri di partenza anche la nazionale azzurra capitanata da Diego Ulissi. Gli organizzatori hanno fornito anche i numeri dell'edizione di Pescara e Montesilvano. Gli organizzatori hanno fornito anche i numeri dell'edizione di Pescara e Montesilvano.